Nuove sconcertanti scoperte nell'inchiesta sui passi invalidi, c'era che usava anche quelli del parente morto, il permesso infatti viene cancellato da Sirio ma non ritirato materialmente consentendo il parcheggio gratuito, la procura è un pozzo senza fondo. Replica immediata dall'assessore alla mobilità Andrea Colombo, già fatte verifiche incrociate per evitare questi casi ma non si può intervenire sui passi temporanei rilasciati da altri comuni, intanto gli abusi dei furbetti danneggiano chi ne ha veramente bisogno. 29 permessi di soggiorno per motivi umanitari revocati dal questore a profughi arrivati in Italia a seguito delle rivolte arabe e immigrati in gran parte tunisini che hanno commesso poi diversi reati come spaccio, furti e rapine. Nuovo affondo del PDL contro il Cassero, il circolo sede dell'Arcighe riceve oltre 120 mila euro di contributi pubblici e chiude inattive, Berlusconiani sono pronti ad andare alla Corte dei Conti e in procura per la verifica. L'Arcighe replica tutto regolare. In arrivo lunedì caldissima Bologna dalle 8.30 del mattino centinaia di taxi sfileranno dal Parco Nord, 258 bianche che passeranno dalla sede della regione per fermarsi in piazza 8 agosto. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. Ci sono altre novità nell'inchiesta della Procura di Bologna sui passi invalidi utilizzati abusivamente. Si è scoperto che alcuni di questi appartenevano a persone decedute e i parenti li hanno utilizzati ugualmente per entrare in centro e parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. Il punto nel servizio di Marco Rossi. I tagliandi dei permessi handicap usati anche dopo il decesso del titolare del pass per poter parcheggiare negli spazi riservati ai disabili oppure gratis sulle strisce blu e in alcuni casi anche per entrare nel centro storico di Bologna. È una delle furberie venute alla luce nell'inchiesta della Procura e della Polizia Municipale sui pass handicap che in un filone ha coinvolto anche i giocatori del Bologna Calcio. Peraltro i furbetti scoperti in questo nuovo filone non dovrebbero essere sanzionabili penalmente. La furbata dovrebbe rientrare in base al codice della strada tra le sanzioni amministrative. L'utilizzo dei contrassegni handicap legati a un'auto e intestati a una persona deceduta è stato riscontrato in due tipologie. Nella prima si tratta dei tagliandi rilasciati dal comune di Bologna. In questo caso l'anagrafe segnala automaticamente il decesso a Sirio che così cancella dal suo sistema la targa. Ma il permesso non viene ritirato materialmente. Così è stato appurato in alcuni casi il permesso che ha una scadenza quinquennale viene ancora usato dopo il decesso del titolare dai parenti per entrare in centro nelle ore in cui Sirio è spento e parcheggiare gratis sulle strisce blu e negli spazi handicap. Nella seconda tipologia si tratta di permessi rilasciati da altri comuni, spesso limitrofi ma anche più lontani. Se ad esempio l'invalido deve essere accompagnato per una visita in centro, il permesso viene inserito nel sistema Sirio e poi vi rimane per cinque anni. È stato visto che anche in questo caso, dopo il decesso del titolare, sono continuati gli accessi al centro. I casi di irregolarità sono un po' più di dieci ma la scrematura è solo all'inizio. Questa inchiesta è un pozzo senza fondo, di piccole e grandi furberie, ha detto il procuratore aggiunto Walter Giovannini, titolare del fascicolo. Bisogna rivedere l'intera materia e il sindaco Merola sta mostrando sensibilità e volontà di mettere ordine. Purtroppo esiste però anche il rovescio della medaglia. Alla nostra emittente infatti continuano ad arrivare segnalazioni di persone che avrebbero davvero necessità di un permesso e che nonostante tutte le carte in regola, faticano ad ottenerlo. Gli uffici del Comune, a seguito delle irregolarità venute alla luce, sono ora impegnati a ricontrollare tutto e a ridurre gli accessi. Un lavoro lungo accompagnato da una maggiore severità richiesta dallo stesso palazzo d'Accursio, che però non sempre riesce a stanare i furbi e a volte invece finisce per penalizzare chi ne ha effettivamente bisogno. Ma della lotta all'abuso dei pass invalidi ha parlato oggi anche l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo. Vediamo il servizio di Massimo Ricci. Le targhe associate a persone non più in vita vengono cancellate d'ufficio dai database degli autorizzati, sia all'accesso in ZTL e nelle corsie preferenziali, sia al parcheggio gratuito sulle strisce blu e nelle piazzole gialle riservate. Parola di Andrea Colombo, assessore comunale al traffico, che spiega così il funzionamento della macchina comunale contro i furbi dei pass invalidi. Colombo ha dato il via da qualche tempo a un netto giro di vite sull'utilizzo dei contrassegni, ai quali non sono più associabili addirittura dieci targhe di veicoli diversi, come era fino a poco tempo fa, ma una sola autovettura. Il sistema incrociato di controllo tra anagrafe cittadina e archivio pass invalidi non può funzionare però se il disabile è residente in un altro comune, almeno fino a quando non prenderà il via il progetto di costituzione di una banca dati unica regionale dei permessi H. Posso garantire, ha dichiarato ancora l'assessore Colombo, che proseguirà strenuamente a tutto campo la battaglia della giunta contro gli odiosi furbetti che in modo disonesto e illecito, abusando dei pass handicap, danneggiano i veri invalidi e lo stesso comune. Il questore di Bologna, Vincenzo Stingone, ha revocato 29 permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati a cittadini nordafricani, in gran parte tunisini, entrati in Italia nei primi mesi del 2011 che finora avevano beneficiato della misura di protezione temporanea stabilita dal decreto dell'aprile scorso. Il servizio è di Federico Balletti. Erano stati accolti in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il provvedimento deciso nell'aprile scorso dopo l'eccezionale afflusso di profughi dal Nord Africa. Ma in questi mesi, anziché cercare di integrarsi, hanno commesso reati, soprattutto spaccio di droga, ma anche furti e rapine. Per questo il questore di Bologna, Vincenzo Stingone, ha revocato 29 di questi permessi rilasciati in città negli ultimi mesi. Perché sono stati ritenuti socialmente pericolosi. Per quale motivo? Hanno commesso dei reati, dei reati abbastanza gravi, dallo spaccio di sostanze superfacenti a reati contro il patrimonio, furti e rapine. Quindi questi stranieri, questi extracomunitari, hanno perso un'occasione, un'opportunità per l'integrazione. Perché quel permesso di soggiorno per motivi umanitari dava l'opportunità loro di cambiarlo anche per motivi di lavoro. Appunto, lo dice la parola, noi diamo il permesso di soggiorno per motivi umanitari, non diamo un permesso per delinquere. Ci tenevo ad aggiungere una cosa, la solidarietà, come ho detto altre volte, e quindi ho l'occasione di ripeterlo, va assolutamente coniugata con la legalità. Quindi l'immigrazione è una risorsa preziosa, che assolutamente va coniugata con tutte le iniziative volte al loro inserimento di questi extracomunitari con il rispetto delle regole. Queste 29 persone che si aggiungono ad altri 15 stranieri a quali è stato revocato il permesso di soggiorno negli ultimi mesi, che fine faranno? Verranno direttamente rimpatriati? Diversi sono stati già rimpatriati. Qualcuno è in stato di detenzione perché sono stati arrestati, altri sono stati portati al CIE, altri ancora sono, diciamo, in giro, ma sono stati inseriti alla banca dati e quindi alla prima occasione, quando saranno fermati o al momento del rinnovo del permesso, verranno rimpatriati. Questo provvedimento vale anche come monito ovviamente per gli altri extracomunitari? Assolutamente sì, ma sono gli stessi extracomunitari in regola che lavorano e che rispettano le regole che ce li sollecitano questi provvedimenti, perché quelli che delinquono, come dire, non fanno un buon lavoro, non danno un'immagine migliore ai loro connazionali. In gergo giornalistico è un classico macabro ritrovamento quello avvenuto ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta della frazione di Tolaesu, l'Appennino Bolognese, mentre gli operai addetti al lavoro di ristrutturazione stavano scavando sotto il pavimento dell'altare minore, sono venute alla luce alcune ossa. Gli investigatori hanno confermato che si tratta di resti umani, costole e ossa delle gambe e anche la loro lunga datazione. Probabilmente si tratta di resti appartenenti a qualche religioso, anticamente tumulato sotto l'altare, o a qualche defunto seppellito in un cimitero originariamente localizzato fuori dal perimetro della chiesa, poi inglobato a seguito dell'ampliamento della struttura. Le spoglie sono state quindi trasferite all'Istituto di Medicina Legale di Bologna per gli ulteriori approfondimenti dell'autorità giudiziaria e nei prossimi giorni proseguiranno gli scavi nell'eventualità che vi siano seppelliti altri resti. Ultima pagina, il Circolo Cassero, sede dell'Arcighei di Bologna, riceve ogni anno circa 150 mila euro di soldi pubblici. In tempi di tasse e di tagli, la notizia ha attirato l'attenzione del popolo della libertà che ora chiede l'intervento della Corte dei Conti e della Procura. Sentiamo gli esponenti del partito al microfono di Massimo Ricci. Marco Lisei, parliamo del Cassero, la sede dell'Arcighei di Bologna. Voi avete fatto un'indagine, avete guardato i bilanci. Che cosa avete scoperto? Abbiamo scoperto che il Cassero è una vera e propria impresa che fattura un milione e mezzo di euro con un utile da 160 mila euro all'anno e alla quale noi contribuiamo molto perché diamo un immobile che vale circa 72 mila euro, glielo diamo gratuitamente, gli diamo dei contributi pubblici per 41 mila euro, gli paghiamo la metà delle utenze, il telefono, la bolletta, il gas, gli diamo altri 20 mila euro circa, quindi per complessivi 140-150 mila euro e loro hanno anche un utile, quindi una vera e propria impresa a spese dei contribuenti. Non c'è un'utilità sociale di questo Cassero? L'utilità sociale è del tutto marginale, nel bilancio i costi sono tutti imputabili a spese per discoteca, serate di vario tipo, musicali, artistiche, ma l'utilità sociale è del tutto marginale e le spese sono altrettanto marginali. Ci possono anche essere, però non possono essere così marginali come sembrano. Sorprende che questi soggetti che sono pronti a fare la morale ad altri perché non pagherebbero questo o quella tassa ricevano invece una sede gratuitamente, e quindi pagata dai soldi tutti i bolognesi abbiano un contributo importante per svolgere un'utilità che si risolve con 640 mila euro di incasso dal bar, 460 mila euro da discoteca, 230 mila euro dai biglietti e dal tesseramento. Insomma, credo che davvero di utilità pubblica qui ci sia poco, ci sia molti invece interessi economici privati. Oltre a segnalare questi dati, che cosa farete? Riteniamo doveroso che sia la Corte dei Conti, la Procura della Repubblica, valutare se effettivamente c'è un interesse pubblico. Io non comprendo perché le utenze che normalmente gli imprenditori e le famiglie pagano debbano essere imborsate questo soggetto per la metà dal Comune di Bologna. E alle parole dei due consiglieri del PDL replica la direzione del Cassero, secondo cui l'intrattenimento e la socializzazione sono tra le finalità statutarie del Cassero, nonché tra i servizi previsti dalla Convenzione. La programmazione del club è variata e attenta a differenziarsi per generi e pubblico. Accanto alla disco generalista ci sono serate dedicate, come pure le serate estive di Giardino Sonoro. L'offerta di intrattenimento, cioè secondo il Gay Lesbian Center, va letta come un servizio, ma soprattutto attraverso l'intrattenimento il Cassero mette in atto un'attività che rende possibile tutte le altre attività, perciò tutti i servizi inclusi nella Convenzione. I congressi locali del PDL si terranno quasi sicuramente il 18 e il 19 febbraio, lo ha comunicato oggi il vice coordinatore cittadino Galeazzo Bignami e in pole position per fare il coordinatore cittadino del PDL c'è Paolo Foschini. Vediamo. Dopo l'ennesimo rinvio comunicato nei giorni scorsi, i congressi locali del PDL hanno una nuova data. Si faranno quasi sicuramente il 18 e il 19 febbraio, l'ha comunicato a margine di una conferenza stampa a Galeazzo Bignami, consigliere regionale e vice coordinatore bolognese. E nell'attesa la candidatura di Paolo Foschini alla guida del partito a Bologna sembra la più accreditata. Sul nome dell'ex assessore di Giorgio Guazzalocca sono d'accordo sia l'area di Bignami e di Marco Lisei, capogruppo in comune, sia quella cattolica vicina a CL. Ragionando con l'area cattolica con cui ci troviamo molto bene, pensiamo che Foschini sia la soluzione migliore, ha spiegato Bignami. Ad affiancare Foschini sarà probabilmente un giovane come vice e questo dovrebbe garantire l'esigenza di ricambio generazionale su cui l'area legata a Bignami non ha intenzione di arretrare. Si fa il nome di Francesco Sassone come vicario. Foschini intanto invita tutte le componenti del partito a marciare unite verso il Congresso. Ringrazio Bignami della stima che ha espressa nei miei confronti spero che questo giudizio sia condiviso anche degli altri amici del partito e anche delle altre componenti bisogna sfruttare il momento dei congressi per proporre un partito a tutti quindi più ci presentiamo uniti sia in città che in provincia e più questo messaggio nei confronti degli elettori e degli iscritti sarà forte quindi lo ringrazio e poi è un cammino che dobbiamo fare insieme a tutti quanti. In arrivo lunedì molto caldo a Bologna per la protesta dei tassisti che si ritroveranno alle 8.30 al Parco Nord poi 250 auto non una di più come concordato con la Questura sfileranno dalla periferia al centro di Bologna a passo ridotto un serpentone lungo oltre 2 km che passerà anche da Viale Aldomoro sede della regione Emilia Romagna per fermarsi in piazza 8 Agosto è la protesta più scenografica del fermo che lunedì scatterà anche a Bologna così ha deciso il coordinamento taxi bolognese coinvolgendo pure colleghi del nord-est dalle 8 alle 22 niente taxi in città tranne che per i trasporti da e per gli ospedali o per disabili altre categorie protette le macchine resteranno in piazza 8 Agosto mentre gli autisti si sposteranno a piedi fino a piazza Maggiore qui dalle 10.30 altri 50 taxi circonderanno il crescentone di piazza Maggiore lo spazio rialzato della piazza davanti alla chiesa di San Petronio resteranno in presidio a mezzogiorno una delegazione incontrerà il sindaco Virginio Merola si è svolto questa mattina presso l'istituto Veritatis Splendor di Bologna l'incontro regionale in occasione della festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti c'è la patrona dei giornalisti e ne abbiamo bisogno certo anche perché il momento sembra foriero solo di criticità ma credo che siano anche le difficoltà quelle che aguzzano l'ingegno e quindi probabilmente sollecitano una risposta intelligente e capace di mordere la realtà al di là dei grandi media nazionali poi in queste ore si discute sul beauty contest sulle mosse del nuovo governo rispetto alle frequenze c'è tutto il mondo dell'emittenza locale che è stato un po' preso messo nel mirino è una grande realtà una realtà dove come dire la chiesa trova anche la possibilità di farsi sentire quindi la difesa ma credo che noi in questi mesi abbiamo cercato in tutte le maniere di dare manforte all'emittenza locale proprio perché riteniamo che spegnere questa voce significa compromettere il pluralismo della informazione ma anche spegnere quei sensori così sensibili che sono appunto l'informazione sul territorio di cui il quadro nazionale verrebbe in qualche modo a patire Monsignor Vecchio allora un patrono di noi giornalisti sapesco di Sales abbiamo bisogno di un santo patrono che protegga il nostro lavoro ma che ci illumini anche certamente oggi poi in modo particolare che i patroni sono un po' svalutati da questa nostra società tutta costretta a guardare all'economia ma non sanno che proprio sono i santi coloro che possono dare la carica interiore alle persone per poter esprimere al meglio la loro capacità di intraprendere quindi il santo patrono dei giornalisti poi in modo particolare San Francesco di Sal più passa il tempo più emerge la sua attualità un uomo che ci ha insegnato il metodo non dell'aggressività da sola ma l'aggressività dell'amitezza che è l'amore di Dio che si è fatto uomo per noi quindi lui ha sconfitto praticamente coloro che lo combattevano proprio attraverso l'amore è andata male un aspirante truffatore che ha cercato di raggirare una pensionata bolognese di 89 anni spacciandosi per il nipote le ha telefonato per chiederle un prestito ma la nonna non è caduta nel tranello e ha chiamato la polizia è successo ieri pomeriggi in via dello Sterlino in zona Murri la donna si è insospettita visto che il nipote non aveva mai chiesto soldi ha preso tempo dicendo all'interlocutore che avrebbe fatto qualche verifica in più questo è bastato a fare desistere il malvivente che aveva riattaccato e non si è più fatto sentire la pensionata ha poi avvertito dell'accaduto il vero nipote un trentenne bolognese e la polizia ci fermiamo un attimo poi saremo di nuovo in studio a tra poco di nuovo in studio con ETG prima di andare avanti rivediamo insieme i fatti principali della giornata nuove sconcertanti scoperte nell'inchiesta sui passi invalidi c'era chi usava anche quelli del parente morto il permesso infatti viene cancellato da Sirio ma non ritirato materialmente consentendo il parcheggio gratuito replica immediata dall'assessore della mobilità Andrea Colombo già fatte verifiche incrociate per evitare questi casi ma non si può intervenire sui passi temporanei rilasciati da altri comuni intanto gli abusi dei furbetti danneggiano chi ne ha veramente bisogno 29 permessi di soggiorno per motivi umanitari revocati dal questore a profughi arrivati in Italia a seguito delle rivolte arabe immigrati in gran parte tunisini che hanno commesso poi diversi reati come spaccio furti e rapine nuovo affondo del PDL contro il cassero il circolo sede dell'Arcighe riceve oltre 120.000 euro di contributi pubblici e chiudi inattive berlusconiani sono pronti ad andare alla corte dei conti in procura per la verifica l'Arcighe replica tutto regolare in arrivo lunedì caldissima Bologna dalle 8.30 del mattino sfileranno dal Parco Nord 250 auto bianche che passeranno dalla sede della regione per fermarsi in piazza 8 agosto una delegazione incontrerà il sindaco Merola andiamo avanti con il giornale promuovere e valorizzare l'arte contemporanea questo è l'obiettivo del concorso di pittura e fotografie promosso dalla Samp S.P.A. del gruppo Macafferri 5 artisti sono stati premiati in una cerimonia che si è svolta all'Accademia delle Belle Arti vediamo proclamati i vincitori della terza edizione del premio promosso dalla Samp S.P.A. del gruppo industriale Macafferri a consegnare i premi ai 5 artisti il presidente Antonio Macafferri è il numero 1 dell'Accademia delle Belle Arti Alessandro Fiumi il primo progetto premiato è quello di Lino Acconcia dal titolo Oltre Ego Nuova Immagine che darà vita ad un'opera di grandi dimensioni nella nuova sede del gruppo Samp di Bentivoglio l'obiettivo dell'iniziativa ha sottolineato il presidente della Samp S.P.A. Antonio Macafferri è quello di promuovere e valorizzare l'arte contemporanea questa è la terza edizione di questo premio che promuoviamo insieme agli studenti dell'Accademia l'idea è proprio quella di dare un tema agli studenti e su questo tema loro si devono misurare e naturalmente c'è un vincitore perché ci sono anche delle borse dei premi e quest'anno il tema era il progetto per un'opera da realizzare poi nei nuovi uffici della Samp che si trovano a Bentivoglio dopo la cerimonia è stata inaugurata la mostra collettiva che vede esposti i progetti dei giovani talenti artistici che si sono messi alla prova l'esposizione rimarrà aperta dal pubblico fino al 31 gennaio negli spazi dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna con apertura prolungata fino a mezzanotte nella giornata di sabato 28 gennaio in occasione di Art White Night è infatti una delle mostre che appartengono al circuito off di Arte Fiera e parliamo adesso di basket TV trasmetterà questa sera a partire dalle 20 a 30 la telecronica in diretta della partita di Roma tra Acea e Virtus Canadian Solar sul match vediamo la presentazione di Marco Rosso Troveremo una squadra determinata in crisi di risultati più che di gioco e che vorrà fare partita intensa per noi la parola d'ordine è continuità parole e musica sono del coach bianconero Alessandro Finelli che non si fida affatto della presunta crisi di Roma la trasferta della Virtus nella capitale trasmessa in diretta sul canale 10 di ETV mette di fronte una squadra quella bianconera reduce sì dalla sconfitta di Cantù ma comunque in un ottimo stato di forma soprattutto psicologica le V nere hanno chiuso il girone d'andata al quinto posto per via degli scontri diretti ma con gli stessi punti della seconda e soprattutto mostrando una qualità di gioco e uno spirito di squadra certamente inaspettati nei primi mesi di campionato l'asse play pivot è determinante il pick and roll tra Poeta e Gigli spesso produce sfracelli nell'area avversaria così come la fisicità ai rimbazzi di Sani Chizze o la capacità di Coponen di leggere la partita e colpire nei momenti giusti questa è stata la Virtus dell'ultimo periodo capace di schiantare Siena di mantenere inviolata la Unipol Arena e di risalire posizioni in classifica sarà importante vedere se la squadra è in grado di leggere le difese tattiche che proporrà Roma per attaccare la loro zona a Cantù le V nere avevano cominciato alla grande arrivando addirittura 15 punti di vantaggio sul campo di una squadra capace pochi giorni dopo di mettere in difficoltà il Barcellone in Eurolega poi calata un po' l'intensità difensiva Cantù ha chiuso bene l'area e la Virtus non è riuscita più a trovare valide alternative al proprio gioco preferito quello che spesso e volentieri libera l'uomo sotto canestro Roma è una squadra lunga attacchera la loro chiave offensiva ma sta facendo bene anche Cacchiusis Lardo coach dell'altra Virtus quella romana cercherà di imbrigliare il gioco bianco-nero con le tattiche la precisione nel tiro dall'arco nel quale la Virtus è ultima in campionato col 30% e una tenuta difensiva migliore del solito saranno le chiavi per una vittoria che consoliderebbe il secondo posto Ancora una breve pausa poi di nuovo in studio a tra poco Di nuovo in studio con ETG non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora siamo in chiusura andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale Nuove sconcertanti scoperte nell'inchiesta sui passi invalidi c'era chiusava anche quelli del parente morto il permesso infatti viene cancellato da Sirio ma non ritirato materialmente consentendo il parcheggio gratuito la procura è un pozzo senza fondo Replica immediata dell'assessore alla mobilità Andrea Colombo già fatte verifiche incrociate per evitare questi casi ma non si può intervenire sui pass temporanei rilasciati da altri comuni intanto gli abusi dei furbetti danneggiano chi ne ha veramente bisogno 29 permessi di soggiorno per motivi umanitari revocati dal questore a profughi arrivati in Italia a seguito delle rivolte arabe immigrati in gran parte tunisini che hanno commesso poi diversi reati come spaccio furti e rapine Nuovo affondo del PDL contro il Cassero il circolo sede dell'Arcighe riceve oltre 120 mila euro di contributi pubblici e chiude in attivo i berlusconiani sono pronti ad andare alla corte dei conti e in procura per la verifica l'Arcighe replica tutto regolare in arrivo lunedì caldissima a Bologna dalle 8.30 del mattino centinaia di taxi sfileranno dal Parco Nord 250 auto bianche che passeranno dalla sede della regione per fermarsi in piazza 8 agosto una delegazione incontrerà il sindaco Merola ed è tutto con questa edizione del nostro giornale grazie per essere stati con noi tutti voi una buona serata e un buon weekend arrivederci